Omega Constellation Petite Seconde, eleganza e precisione. Nell'universo affascinante dell'orologeria di lusso, il modello Constellation Petite Seconde, brilla come una gemma preziosa. Questo straordinario orologio da polso è il risultato dell'incontro tra l'arte dell'orologeria e la passione per il design senza tempo. Il Constellation Petite Seconde nasce dalla ricerca della perfezione in ogni dettaglio. La sua evoluzione è una storia di innovazione e dedizione all'artigianalità. Una delle caratteristiche più distintive del Constellation Petite Seconde, come suggerisce il nome, è una complicazione visualizzata su un subquadrante chiamata piccoli secondi. Questa funzione, posizionata generalmente a ore 6 o ore 9, offre una visualizzazione delle frazioni di secondo, dimostrando l'attenzione meticolosa all'accuratezza. Il quadrante, spesso arricchito da dettagli raffinati, è un'opera d'arte in miniatura, riflettendo la passione per la perfezione. Il movimento meccanico automatico del Constellation Petite Seconde è una dimostrazione di ingegneria svizzera all'avanguardia. L'orologio garantisce un'esperienza di cronometraggio precisa e affidabile, una qualità che rappresenta l'eredità dell'orologeria di alta classe. Le casse in acciaio inossidabile, oro o titanio sono lavorate con attenzione ai dettagli per creare forme armoniose. La finitura delle casse, la lavorazione dei quadranti e la cura per ogni componente dimostrano l'attenzione per la perfezione che sta alla base dell'orologeria di lusso. Il Constellation Petite Seconde ha attirato l'attenzione di persone di grande rilievo nel mondo dello spettacolo, della cultura e degli affari. Personalità influenti hanno scelto questo modello per la sua fusione di stile e precisione. Celebrità internazionali hanno contribuito a posizionare il Constellation Petite Seconde come un simbolo di prestigio e status. Inoltre, il modello ha ricevuto apprezzamenti dalla critica e dall'industria dell'orologeria. Riconoscimenti e premi testimoniano la sua eccellenza e il suo impegno per l'innovazione e il design di alta qualità. Che si è indossato durante un'importante riunione o una serata speciale, questo orologio rappresenta un omaggio all'arte dell'orologeria e all'attenzione per i dettagli.